Un Natale all'insegna della tradizione, siamo andati a fare un giro tra le gastronomie per scoprire i gusti dei comaschi a tavola durante le festività natalizie. Che cose i comaschi portano in tavola al giorno di Natale? Sicuramente i piatti della tradizione, praticamente abbiamo per quel che riguarda gli antipasti, il cocktail di gamberetti, il patè, l'insalata russa, l'insalata capricciosa, l'insalata di piovra. Per quanto riguarda invece i primi, sempre il tortellino, la fa sempre la padrona, e per ciò che invece riguarda le carni abbiamo sicuramente capponi, tacchine, faraone, qualcuno la mangia ripiena, qualcuno invece no. E poi il bollito, il bollito misto, anche quello ha sempre il suo apprezzamento. Quest'anno, come tutti gli anni, c'è una riconferma della tradizione, quindi una gran quantità di antipasti, tanto pesce, tanti patè, e poi comunque i caponi, i faraone, cose a rosto. Ci si cimenta in cucina oppure si preferiscono i piatti pronti? No, ci si cimenta in cucina e qualcuno preferisce anche i piatti pronti, però la maggior parte si cimenta in cucina. Tra i piatti pronti, che cosa va per la maggiore? Le crespelle, le crespelle sono il tipico piatto natalizio, come primo, e poi ripeto, i patei, i pesce, quindi gamberi, aragoste, frutti di mare, polpo. Budget circa delle persone quest'anno? Ma diciamo che a differenza dell'anno, a Natale si lascia un po' andare, quindi il budget si aumenta. Grazie. 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 Grazie.